3 di lettura nessun allarme. È solo una sperimentazione. Questo è il primo test ITART Lombardia, il nuovo nazionale sistema allerta promosso dal Dipartimento Protezione Civile che, dopo la fase sperimentazione, sarà grado informare prontamente la popolazione caso gravi emergenze imminenti o corso. La stessa cosa accadrà contemporaneamente a Basilicata e Molise. Il 21 settembre. Test Lazio. A Valle d'Aosta e Veneto il calendario include quindi il test il 21 settembre. Quando i messaggi arrivano Lazio. A Valle d'Aosta e Veneto. Il 26 settembre sarà il turno di Abruzzo e la provincia autonoma di Trento. Il 27 settembre. I telefoni cellulari attiveranno Liguria. Il 13 ottobre nella provincia autonoma di Bolzano. Quando si attiva il sistema il sistema è unidirezionale e non consente ricevere alcun tipo di restituzione o dati feedback dai telefoni cellulari raggiunti. Ciò significa che nessun dato personale coloro che ricevono il messaggio sono trattati in alcun. Modo dal dipartimento di civil protezione e operatore telefonico riferimento. Finora quasi 800.000 questionari compilati comunendo quelli hanno ricevuto messaggio. 97 risposto trovato è chiaro rispetto al totale coloro che hanno indicato aver ricevuto. Correttamente messaggio. L84 ha dichiarato non avuto difficoltà all'estero con notifica dell'art. Mentre restante 16 riportato come la principale difficoltà trovata l'unico duetto è fatto messaggio. Scompare dopo visione. sensazione di paura per il 20. Il 15 sorpreso sebbene l86 dei partecipanti abbia confermato aver sentito parlare delle arti nei. Giorni precedenti le attività sperimentazione. Principalmente attraverso i social media e il web. Una sensazione paura al momento della ricezione del messaggio è stata in ogni caso segnalata dal. 20. Mentre il 15 ha dichiarato essere sorpreso. Alla domanda hai capito immediatamente che si trattava di un messaggio istituzionale? Il 59 ha risposto positivamente. Mentre una buona parte coloro che compilato il questionario hanno affermato di pensare che potesse essere un virus. Questo contributo. Sottolineato sono fondamentali perché ti consentono identificare eventuali elementi su cui è necessario lavorare in modo da fare e migliorare questo nuovo sistema nel suo insieme.